Il rito religioso della Santa Pasqua ha riproposto anche quest'anno il messaggio di pace accompagnato dalla preghiera e dall'appello rivolto anche da Papa Francesco alla luce dei recenti attentati in Belgio e in Pakistan per realizzare un futuro di serenità e pacifica convivenza fra popoli. Per la sua prima messa pasquale da Vescovo di Potenza, Monsignor Salvatore Ligorio ha parlato anche dell'enciclica Laudato Si e della custodia del creato, tema quanto mai attuale in Basilicata dove molto spesso l'ambiente è al centro dell'attenzione della comunità. La resurrezione di Cristo dunque come messaggio di speranza, di rinnovamento, di vita nuova, quella che si apre per i credenti con il battesimo. E per la Pasqua quest'anno tra i nuovi battezzati ha anche un ragazzo nigeriano, ospite in uno dei tanti centri di accoglienza della Basilicata, convertitosi al cristianesimo e per questo perseguitato nel suo paese di origine.